5 valeti, 119, 140, 148, 158, 172 Primo atleta ad iniziare sarà numero 119 3, 2, 1, prego regia 3, 2, 1, prego regia Grazie. 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 Avvicinatevi. A seguire si tengono pronti gli ardenti del simbolo femminile 12-12 anni classe C2, 128. 140, Andrea Alvanusio, Rimini del scontro. Seconda posizione per il numero 148, Lores Casadei, Rimini del scontro. Terza posizione per il numero 172, Federico Andreini, Rimini del scontro. Quarta posizione per Niccoli Palmori, il Diavoli della Fosta. Quinta posizione per il numero 158, Signor Andreini, Rimini del scontro. Singolo femminile 12-15, C2. Grazie. Grazie. Grazie.